Ciao amici di Addicta su 2Games e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele Breve video per annunciarvi che oggi sarà rilasciato ufficialmente Super Mario Run Il primo titolo di Super Mario di Nintendo ad approdare su dispositivi mobile, iOS e Android È già disponibile negli store americani ma arriverà tra poche ore, penso entro le 9 di sera, anche qui in Italia Al momento del lancio, 15 dicembre, sarà disponibile solo per dispositivi iOS, quindi iPod, iPad e iPhone Mentre per Android arriverà nel corso del 2017, si parla nei primi 2-3 mesi del nuovo anno Allora, questo Super Mario Run sarà disponibile in versione free to play ma questa versione sarà una sorta di demo Con solo alcuni livelli giocabili, la versione completa sarà sbloccabile al prezzo di 10€ Bene amici, voi lo scaricherete, fatemi sapere qui sotto nei commenti Lasciate un bel like, commentate e condividete il video a tutti i vostri amici Ciao ragazzi!